OLE 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 Oddio che ansia Che ansia terribile guarda Sai stavo suonando un po' la chitarra Non sento Stavo suonando un po' la chitarra Scusa Vabbè allora se stavi suonando Ne vuoi ascoltare un pezzo? Ma adesso? Vabbè se proprio vuoi Immaginavo volessi sentirlo E' un pezzo che mi ha ricordato te Bella ciascuna a faccia del barcone Te voglio cantare tutta sta cazzu Ahahahahah E poi dall'altro a che ora mi hai detto che venivi? Quattro Quattro e mezza Cinque Quattro Quattro e mezza Cinque Cinque Olga Guarda che uno sta avuto il poveriggio ad aspettare te Si E si Chi è al telefono? Ah Chi è? Si è Fiagna Passamela 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 Danilca Puzza puzza Tu hai fatto cacca e non tirato catena Questa chitta Se tu fa cacca non tira catena Brusto Tira catena Danilca Olga passami quel telefono Ti passo se tira catena Olga passami subito quel telefono Comunque tu non è normale Danilca Ma lato troppa puzza Giappe d'oro Chi sarebbe? Sandra Vabbè non lo sapevo comunque Comunque non ti ho detto Sandra Ti ho detto Stefania Che si che Sto Walter me lo avrei sentita sta Sandra Però è venuta con sta amica tua Che ti ho detto che è carina ma è bassa questa Ti ricordi? Sta Stefania Si eh Ti ho detto che è bassa Si eh È bassa È bassa cossa Soria Io questa signora non l'ho mai vista Bassa Bassa davvero Bassa Bassa Quando è bassa e batto lo dico io Bassa per ditte Bassa per ditte Ciao ciao Ora sei una pignacolata sbagliata con lo sbaglio andoteci di te e un crotino Senti scusa te mi permetto eh Io t'ho visto prima dal bancone Tu non sanna bene con questa Ma perchè se lei vuole dal bancone? E se vedeva si E se vedeva si Mo lei sa che lei a te te piace giusto? Giusto Quindi per lei penso è più interessante perchè ormai ti ha catturato giusto? Giusto Ma scommette dopo l'aperitivo te la porti a cena fuori giusto? Giusto SBAIATO Ecco qua La pignacolata sbagliata e il crotino sbagliato No in che senso crotino sbagliato? Nel senso che se sbagliato resta aperto un stamp di te No non me la sento Eh ma la sento io No non sono in vena Eh son vena io Son vena io Ehi no con ste mani E' buono con ste mani Mi dico sempre pure al freddo Sta buono con le mani Senti ma... Sto buono con le mani 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 Se invece ti metto le manette Che mi metti non Le manette Si Ma io sono uno di parola eh Se ti dico che non mette le manette Ti metti le manette Non gli piace 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 Tutte le manette Mi hanno chiesto Di farti del male No Torturare Di farti tanto Tanto soffrire Non, ti prego Non preoccuparti Non sentirai più niente BANANDIRA! Ecco, prova un po'. Non lo fa più! Oh, quel cicolino! Mi stava a mandare i matti! Ma era una cosa proprio! Ma forse è vera! Allora prendi il martini! Meglio il martini! Sì, sì, il martini! Hai ragione, sì! Anche perché io lo so come mai! Però tutte le volte che bevo il rum esce fuori una parte di me talmente forte! Ecco il rum! Guarda che cosa ho trovato! Guarda che roba! Stava qua proprio tardi! Stava pure il martini! Ma anche il rum c'è il suo perché però! Chimmi che si nasconde dietro la falsa identità del tuo carrozziero! Ora tu me lo dici, capito? Io lo schiodo da quasi pari! Ma che cosa hai detto? Il secondo palo! Palo d'arrivo! GOOOOOO! 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 No! Ecco! Portiamo il risotto, va! Che cos'è? Io adesso non lo posso più riaccendere da lì! Tu sei pazza! Noi dobbiamo parlare del fatto che tu mi tradisci con una che per non testare sospetti è registrata come Michael! Ma non c'è nessuno quello in Michael veramente! Ma si? Allora se è vero che sono importante per te tu ora che il Michael è davanti a me! Ma quello davanti a te mi manda a fanculo perché si sta prendendo la partita a lui! GOOOOOO! GOOOOOO! Amore hai preso dei confetti da Sulmona che sono buonissimi eh! Li devi troppo assaggiare eh! Come? No! Un'altra cosa scandalosa! Il Varalax va subito tolto dal mercato! Eh si perché ha un effetto collaterale gravissimo! Eh! L'han testato su due Rottweiler e sono diventati unucchi! Non gli tira più! Si si è scoperto le pastiglie che se se ne ingerisce una l'effetto è temporaneo due invece permanente! Ma come no! L'ho girato io da laboratorio e ce l'ho qua davanti dai! Amore ecco i confetti assaggia che sono buonissimi eh! Scusa ma questo quando? Mercoledì! Non ho capito! Mercoledì o gioc... Ah mercoledì! Eh vabbè dai leggimi il programma! Amore ti vado a fare l'amore eh? È il pluviano! Eh dai preparati! Dai su! Così rischiamo che i clienti sventrano i culetti dei loro cagnolini dai non è carino! No no richiami subito a Filippetti e glielo dici capito? No non mi fai incazzare Gerardo! Chiama Filippetti! Amore sono tutta per te lo vedi che sono tutta per te! No lo chiami adesso! E allora no! Vabbè dai andiamo avanti con... Scusa un attimo! Amore! Ma non tira! Hai pensato che c'è un problema tecnico! Ma allora se non tira togliti! Ti stai sopra a te! Ah non è come io giusto! Ci sono!